L'apertura di una sede decentrata all'interno del porto di Pomerina dell'autorità di sistema rappresenta certamente un segnale di grande attenzione per il nostro territorio ed è un punto di riferimento per servizi che saranno erogati, quindi innanzitutto questo. Poi rappresenta certamente un altro segnale importante sul versante della produttività. L'ammiraglio Agostinelli ha ricordato e io stessa ho sempre sostenuto che la vivacità di questo porto risiede proprio nella sua polifunzionalità. È un porto che è turistico, industriale, peschereccio e riteniamo che debba essere valorizzata e mantenuta questa polifunzionalità. Il futuro di questo scalo sta nella capacità di captare e possibilmente utilizzare finanziamenti importanti per le banchine, per il dragaggio, per tutto quello che c'è da fare. Senza dubbio. Il primo nostro approccio è certamente il finanziamento dei 18 milioni di euro che dovranno essere erogati dal livello regionale e abbiamo sentito la garanzia che era stata già data dal governatore Occhiuto e oggi qui ribadita dall'assessore regionale sull'effettiva possibilità di ottenere questi 18 milioni che poi condizionano ovviamente la realizzazione concreta della ristrutturazione delle banchine. Altro finanziamento interessante dovrà provenire dal CIS perché come città, come comune abbiamo presentato un progetto bellissimo che riguarda non soltanto il porto ma anche il retroporto. È un progetto molto bello ma è evidente che innanzitutto bisogna partire dalla sicurezza, bisogna partire dalle banchine. Il resto viene dopo e noi ci auguriamo che con la ristrutturazione di queste banchine il problema dell'insambiamento possa essere risolto e che quindi non soltanto le possibili navi da crociera, quelle tanto pensate e che costituiscono un miraggio delle amministrazioni che si susseguono in città ma che possa essere anche un punto di riferimento serio perché il porto di Vibo Marina è anche un porto industriale e molte navi non arrivano proprio perché c'è il problema dell'insabbiamento. Ammiraglio, la sede della centrale dell'autoportuale a Vibo Marina rappresenta un passo in avanti significativo per ridare tra virgolette voce a questo scalo. Certo, certo. Poteva essere anche una inaugurazione in sordina. Abbiamo voluto un attimo enfatizzare questa inaugurazione per dare un segnale di importanza. Per noi Vibo è importante, è un porto strategico nell'autorità di sistema portuale, nel sistema portuale calabrese. Ho avuto piacere che le massime autorità cittadine e le massime istituzioni siano intervenute perché c'è una grande sinergia istituzionale al proposito anche con l'associazionismo e questo è un primissimo passo. C'è tanto da fare, a cominciare dalla possibilità di captare finanziamenti significativi per dare un futuro al porto di Vibo Marina? Sì, se ne parla di questi finanziamenti da tanto tempo. Io credo che siamo arrivati alla stretta conclusiva. Non dubito che la Regione faccia gli atti, l'accordo di programma e la convenzione, la sottoscrizione della convenzione con noi per farci assumere la funzione di enti attuatori di quei lavori di cui vi dicevo prima e che riguarderanno quattro banchine del porto di Vibo. Le banchine e poi anche le operazioni di dragaggio? È l'operazione logicamente e temporalmente seguente, anche se parliamo di tempi molto lunghi. Voi sapete che le istruttorie per il dragaggio portuale sono istruttorie particolarmente devaticanti, ma necessarie perché noi sappiamo che nel porto di Vibo ormeggiano navi sotto capienza, diciamo così, sotto la portata che potrebbero scaricare nei depositi costieri. Faccio un esempio. E quindi sono lavori molto urgenti, ma sono lavori che dovranno seguire la ristrutturazione delle banchine. Attualmente i depositi costieri sono operanti, sono operativi nel sedime portuale di Vibo e li rimangono. Sono due e rivestono una grande importanza. Non è un caso che anche il sindaco Maria Alemardo abbia sottolineato la destinazione industriale, oltre che quella turistica e commerciale del porto di Vibo. Ridare un impulso significativo al porto di Vibo Marina significa rilanciare anche l'economia su questo territorio e le tante attività produttive che languono. Sì, è assolutamente così. L'istituzione a cui abbiamo assistito oggi di una sede centrata e l'autorità portuale a Vibo Marina è un'occasione importante intanto perché è sintomo di quella che è l'importanza strategica che l'autorità portuale dà a questo porto. Il porto è fondamentale per lo sviluppo di questo territorio e il suo ammodernamento è quindi un punto centrale anche di quella che è la politica regionale. Anche perché la centralità del porto può, come diceva lei adesso, dare impulso a quello che è lo sviluppo di tutto il territorio, di tutto quello che è il retroporto, di quelle che sono le aziende che sono insediate su questo territorio e di quelle che ancora potranno insediarsi grazie anche alle opportunità che ci sono, per esempio con le zone economiche speciali delle quali abbiamo tanto parlato, delle quali ancora parleremo.